Gian Domenico si libera di un uomo Gian Domenico poi cerca il pallone lungo per Gentili Gentili avanzano gli avanti della Samb ora viene cercato D'Angelo, entra in area D'Angelo pallone in mezzo per Cacciatore Cristian Cacciatore due pari al minuto numero 35 della Samb il pareggio di Cristian Cacciatore